un dondolo, un dondolo, oddio che dolor di schiena, mi sono svegliata da poco e sono andata a spulciare nel telefono, ho pubblicato nella community una bella foto perché io quando vado, una bella foto perché io ho fatto scuola di fotografia a Bogotaus, mi sembrava, a me piacciono le foto particolari, piacciono i primi piani fatti bene, i contesti dove, non è che mi piace la foto fatta mezzo al campo così, devi dare comunque sempre un senso alla foto perché la foto è arte, perché se tu fai una foto a cavolo è solo carta o rappresentazione di qualcosa che puoi scattare e basta. E io siccome vado nei karaoke, voi lo sapete, a porco dei capelli down, ho fatto una foto, mi hanno rilasciato una foto molto bella con un ragazzo down. E mi è piaciuta, ma non perché io, cioè, a me, farmi una foto con un ragazzo down, dice guarda, vedi, lei è brava, oppure quando balla, oppure io ci ballo spesso, oppure quando, a porco Dio, lui canta, io gli applaudo perché comunque è down e va incitato, no? Perché se canta male, ti canterai fatta cacà, come lo dico a tutti, perché io lo tratto come una persona normale. Detto questo, ho ricevuto un commento dove diceva, chiede down di loro due. Ragazzi, a prescindere che io voglio tanto bene a quel ragazzo, a prescindere che io odio la discriminazione sociale, a prescindere che dire una cosa del genere, a porco Dio, i capelli down, è un'infamia insoluta, cioè assoluta, non insoluta, questo è l'altro termine, che mio fratello dice che io scrivo un libro di frasi che invento. Vi rendete conto come state messi con sto cazzo di cervello ammannato che avete? Ammannato, è un termine cognato, proprio ammannato, stete proprio male, stete proprio male. Dire, chiede down di voi due, fate schifo, e io questa volta non ve la faccio passare. Là, a parte che ho segnalato una persona, e se sì, ripresenta se dar faccio, guandami l'account, perché io lo sputtano, lo segnalo, e veramente questa volta mi sono incazzata di brutto. Fate schifo, a vomitare, e allora se faccio il ticchio è che faccio il ticchio e sono finta, se non lo faccio perché sto un po' serena è che non lo faccio. Ma avete rotto Lucazze, va bene, mi avete rotto letteralmente i coglioni, siamo 27 mila persone. Io vi esordo, proprio ve lo dico col cuore, ad andarvene, affanculo, andatevene perché a me me ne bastano 20, 30, ma con un cuore, che capiscono quello che sto a fare, che capiscono il significato, perché lo sto facendo. Cioè, 27 mila persone che non visualizzano poi, perché magari all'inizio era, sembrava un canale trash, non è un canale trash, quindi iatevin, ve ne dovete andare, e mo mi avete fatto ingazzare a vero.